Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano coreattratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, chiusa per lavori l'uscita di Firenze Impruneta provenendo da Roma. In FIPILI per lavori sul viadotto del Turbone si segnalano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. Code per viabilità esterna che non riceve in uscita la Strassigna provenendo da Firenze. Code per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località Albiano Magra in provincia di Massa Carrara per il crollo del ponte sul fiume Magra. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!